Benvenuti a questa nuova puntata di Made in Italy, programma che si propone di dare risalto all'eccellenza dell'Emilia-Romagna e oggi parliamo veramente di un'eccellenza perché abbiamo con noi la signora Monica Neri, Presidente dell'Associazione Cairos. Buongiorno. Buongiorno. Io ho scambiato qualche parola a telecamere spente, mi si sta aprendo un mondo che veramente non pensavo esistesse. Innanzitutto, l'Associazione Cairos, che cos'è e di cosa si occupa? Allora, è un'associazione di famiglie fidatare e adottive. Io per prima sono una mamma fidataria barra adottiva e ci occupiamo di affido familiare Sinedie. Che cosa vuol dire? Che racconto la mia storia, che così è anche comprensibile. Nove anni fa abbiamo accolto con la mia famiglia una bambina di nove anni, che adesso è una diciassette, una bambina che era destinata a rimanere in comunità fino alla maggior età e che la famiglia era presente nel senso che vedevano i bambini una volta al mese, un'ora al mese. Questi bambini in Emilia Romagna sono tanti, sono collocati nelle comunità. I genitori molto spesso non hanno più le capacità genitoriali, però sono presenti, quindi non possono essere dichiarati adottabili. Il solo fatto di vederli un'ora una volta al mese fa sì che questi bambini non possano essere adottabili. Però di fatto sono bambini collocati in comunità e che sono destinati a rimanere lì fino ai 18 anni e anche per il futuro non hanno delle buone prospettive. Quindi quello che noi facciamo insieme e in collaborazione con i servizi sociali è quello proprio di andare a individuare quelle famiglie che desiderano diventare genitori, anche se in un modo differente. Questo noi lo facciamo fondamentalmente cercando di ridurre il rischio del fallimento, perché accogliere un bambino che è stato abbandonato è un bambino traumatizzato, quindi bisogna imparare a essere genitori in modo diverso. E quindi noi facciamo questo, accogliamo le famiglie, le prepariamo, le formiamo ogni mese a Granarolo dell'Emilia dove c'è la nostra sede, abbiamo un seminario, un evento e la cosa particolare, che è una caratteristica che comunque sul territorio nazionale non fa nessuno, accompagniamo le famiglie per 24 mesi. 24 ore su 24 cosa vuol dire? Che c'è un tutor dedicato alla famiglia che risponde al telefono sabato sera alle 10, alla domenica, a Natale. Perché? Perché questi percorsi sono ad alto rischio di fallimento e non ce lo possiamo permettere. Ah, sicuramente. Ma vogliamo spiegare bene cosa significa un affidamento sine die? Sì, allora, l'affido nasce circa 20 anni fa e nasce come aiuto alla famiglia biologica che è in difficoltà. Quindi l'affido doveva essere temporaneo. Il legislatore dice io famiglia e tu famiglia che sei in difficoltà ti do due anni di tempo per, fra virgolette, riprenderti. Nel frattempo per il tuo figlio io trovo un'altra famiglia che temporaneamente ti aiuta. Lo appoggio. Ti appoggio, bravissimo. Questo purtroppo però è stato un fallimento perché al giorno d'oggi l'80% degli affidi, i bambini non tornano in famiglia. Ecco che abbiamo l'affido sine die, e quindi le persone che vogliono avvicinarsi all'accoglienza per accogliere questi bambini devono avere comunque una motivazione alla fine adottiva. Perché molto spesso questi bambini si trasformano, questi percorsi si trasformano in adozione, ma comunque sono bambini che al compimento di 18 anni non vanno via di casa, rimangono con noi. Eh sì, perché ormai questa è la famiglia. Certo, certo. Non è che a 18 anni uno deve fare un'università come mia figlia che adesso è scaduto il 18 anni e vai via. Ma che età hanno e che caratteristiche i bambini che possono essere? Allora, nel nostro caso, quelli che noi inseriamo nel percorso Kairos, dicevo proprio in collaborazione con i servizi sociali, hanno un'età che va dai 7 anni, no? Preadolescente, ma anche abbiamo messo in famiglia ragazzini di 13 anni. Ad esempio abbiamo adesso collocato in famiglia un ragazzino di 15 anni e da un single, un signore di 60 anni, molto bravo e da pochi giorni. La cosa importante è l'avvicinamento, deve essere un avvicinamento graduale e l'obiettivo qual è? Quello che il bambino desideri di andare presso la famiglia. E noi aspettiamo questo, il momento opportuno, perché è qui che scatta, diciamo, il desiderio, anche da parte della famiglia. Sì, perché mi spiegava che mentre per l'adozione si necessita di una coppia formata, per l'affido invece può essere anche il single. Certo, possono avvicinarsi all'affido i single, sia uomini che donne, le coppie sposate ma anche non sposate, sia con figli che senza figli. Quindi noi in associazione abbiamo un po' di tutto. Naturalmente ci deve essere una motivazione di essere genitori. Ah, sicuramente. E in questo caso doppiamente genitori. Sì, certo. E in questo caso si diventa veramente genitori speciali, perché bisogna semplicemente capire come aiutare questi bambini. Come genitori non siamo stati, come figli di genitori normali non siamo stati abituati, però si può imparare. E noi vediamo veramente delle coppie, delle persone single che imparano veramente e fanno anche i miracoli delle volte. Ma lo Stato riconosce un contributo alle famiglie affidatari? Sì, qua in Emilia-Romagna è previsto un contributo circa di 500 euro all'anno. Quindi questo viene concesso fino naturalmente al compimento del diciottesimo anno di età, a volte anche oltre, anche al 21 anni. Però la famiglia affidataria ha diritto di percepire questo contributo dai comuni. A parte il tanto amore, quale devono essere le caratteristiche per una famiglia che vuole adottare un... A prendere e affidare, ma poi ecco. Certo, andiamo anche verso l'adozione in tanti casi. Allora, sicuramente come dicevo la motivazione è adottiva. Io credo che sia necessaria una grande elasticità. Una grande elasticità. Come diceva lei, l'amore non basta. Non basta. E elasticità perché? Perché questi bambini ti spiazzano. Ad esempio, tu sei preparata per andare a una festa, a una comunione e io mi ricordo mia figlia che gli venivano dei gran mal di testa perché a livello emotivo sono bambini che non sono stati abituati a gestire le proprie emozioni. Allora devi avere il grande amore perché devi rinunciare magari a questa festa, ma devi essere elastico. Ah sì. Sì. Infatti un doppio genitore bisogna essere perché oltre al cuore bisogna usare sicuramente anche la testa. Naturalmente questo succede nel primo anno, nel primo anno, due anni. Dopodiché diciamo tutto va in disesa. Quindi sicuramente all'inizio ci sono delle fatiche, ma poi delle soddisfazioni enorme che molto spesso, devo dire, i figli biologici non ti danno. Dove vi possono trovare? Come vi possono contattare tutti quelli che ci stanno ascoltando e che… Allora innanzitutto il mio telefono che è 348-609-1169, come dicevo sono il presidente. Noi siamo a Granarolo delle Miglia tutti i mesi, in particolare il prossimo incontro, se non sbaglio scusate, sarà il 13 dicembre però a Formigine, perché noi siamo con i gruppi delle famiglie sia a Granarolo delle Miglia che a Formigine. Quindi a Granarolo delle Miglia sicuramente. Noi abbiamo la nostra sede e ogni mese abbiamo un evento. Potete venire anche in associazione e magari vedere e conoscere altre famiglie. Possono chi è interessato venire e ascoltare direttamente dalle altre famiglie le esperienze. Poi molti rimangono e molti dicono no, per me magari prendo un cane che sicuramente è meno faticoso. Ah ma è giusto conoscere, si dice la conoscenza è quella che poi ti aiuta a fare meno errori, quindi è meglio informarsi bene prima e meno male che ci siete voi da un'associazione che potete… Quindi l'associazione è libera nel senso che le coppie vengono due, tre, quattro incontri prima di capire, di decidere sì, è una strada che voglio percorrere e voglio fare. Naturalmente le coppie verranno preparate e formate e l'associazione quello che deve fare è conoscerle, quindi c'è una conoscenza reciproca. Io ringrazio la signora Monica Neri e le faccio tanti tanti auguri. Grazie. La ringrazio anche per quello che fate come associazione. Bene, grazie a voi. Grazie.